Amici dello sportello del cittadino, guardate in che posto ameno mi trovo. Siamo infatti nella gravina di Mottola, nei pressi della chiesa di Santa Margherita, che fa parte appunto del patrimonio rupestre di Mottola e non solo. E' un esempio questa chiesa di arte, di cultura, di storia, di tradizioni. Risale al VIII-IX secolo d.C. circa. Ma al di là della chiesa mi fa impressione ovviamente positivamente questo splendido paesaggio. Guardate la natura allo stato selvaggio, allo stato brado. Una vegetazione ricchissima, foltissima, incontaminata. Ecco, quando io penso a queste ruppi, quando penso a questo verde, beh io dico che madre natura è stata generosa con noi. Forse noi non ci siamo comportati in egual misura verso di essa e abbiamo violentato il territorio attraverso l'industria pesante, l'industria selvaggia, l'industria che uccide, l'industria che inquina. Penso all'Ilva, penso all'Eni, penso alla Cementir, penso a quant'altro. E quando invece riscopro, riscopriamo la bellezza del creato, la bellezza della natura, capiamo che godiamo, vedete, di alcune ricchezze, delle quali purtroppo non ci rendiamo conto e che in altre parti d'Italia sanno invece valorizzare. Questo è il futuro di Taranto. Il futuro di Taranto è mare, agricoltura, turismo in una sola parola. Guardate che oasi, guardate che pace, guardate che silenzio, un silenzio quasi religioso. Da qui, da queste terre, deve partire il futuro di Taranto, un futuro pulito, un futuro sano, un futuro che esiste da millenni.